Si è svolto a Pescara, nella sala d'ascanio del Palazzo del Consiglio regionale, l'incontro sull'emergenza cinghiali promosso dal Presidente della Commissione Agricoltura, Antonio Innaurato. All'appuntamento, organizzato in stretta collaborazione con gli assessori regionali Pepe e Berardinetti, hanno partecipato le province, gli ATC, la Polizia Provinciale, le organizzazioni degli agricoltori, l'Anci e l'Uncem Abruzzo. La riunione che abbiamo fatto qua nella sede della Regione ha appunto sviscerato tutte quelle che sono le problematiche, ma ha evidenziato quello che concretamente possiamo fare per riuscire a debellare o comunque a creare situazioni di inversione di tendenza. Certamente i passaggi sono da percorrere insieme e la scelta di condividere e di portare avanti insieme i cacciatori con gli agricoltori, con i responsabili delle ATC, con l'ispettorato, con l'ispra, con gli organismi che gestiscono la politica e quindi la giunta regionale e con quelli che si occupano quotidianamente di questo problema, cioè la gente comune, quindi i sindaci. È stata una scelta intelligente, dobbiamo continuare a percorrere questo modo di lavorare. Purtroppo nelle zone interne la situazione sta assumendo proporzioni gravissime. Oltre allo spopolamento dovuto a esigenze ormai considerate storiche, si accomuna questa paura, questa preoccupazione, questa difficoltà a poter convivere con questi ungulati che sono ormai in modo esponenziale presenti soprattutto nelle zone interne.